la banca dati archive è stata fondata il 14 agosto del 1991 del fisico paul kinsparg inizialmente era un mailbox server e solo nel 93 è nata come sito internet dal 2001 in avanti ha poi acquisito il dominio archive.org quando è stata trasferita presso la cornell university per quanto a prima vista possa sembrare simile a una normale banca dati bibliografica ha delle caratteristiche peculiari è fondamentalmente un archivio di preprint cioè di documenti che non sono ancora stati sottoposti a peer review per la pubblicazione su rivista la sua nascita e affermazione sono state grandemente favorite da due fattori il primo la comunità in cui è nata originariamente cioè quella dei fisici è caratterizzata da un alto livello di collaborazione e interscambio delle informazioni ed è molto importante la velocità di aggiornamento nella condivisione dei risultati delle ricerche altro aspetto che ha giocato un ruolo fondamentale è stata la disponibilità fin dall'inizio di un formato comune di codifica dei dati il tech che era adatto alla trasmissione delle informazioni via internet il successo del progetto archive ha fatto poi da alfiere negli anni alla nascita del movimento per l'open access che oggi consideriamo come un modello acquisito ma in realtà ha fatto molta fatica ad affermarsi ad oggi archive contiene circa 2 milioni di record ma il numero degli articoli caricati ogni mese aumenta secondo un tasso crescente anche per effetto dell'aggiunta di nuovi ambiti disciplinari le discipline al momento sono 8 e 158 le sottocategorie vediamo ora quali sono le procedure di validazione dei preprint normalmente agli autori nel momento della submission è richiesto di compilare una serie di metadati relativamente al documento che intendono caricare questi metadati insieme all'utilizzo di software per l'analisi del linguaggio naturale permettono una classificazione in parte automatica all'interno delle otto categorie una supervisione ulteriore sia per quanto riguarda l'aspetto della classificazione sia soprattutto per quanto riguarda i contenuti è affidata ad un gruppo di circa 200 moderatori volontari questo processo di moderazione non è però assimilabile ad una vera peer review perché non ne ha l'intento l'intenzione è quella di garantire uno standard scientifico di base e di valutare l'originalità e la pertinenza del contributo agli autori nuovi può essere richiesto un endorsement da parte di autori già riconosciuti che collaborano con la banca dati maggior parte dei preprint ottiene poi una pubblicazione anche su rivista ma non è raro che rimangano solo su archive come testimonianza della ricerca fatta e contributo allo sviluppo della ricerca scientifica ad ogni articolo viene assegnato un identificativo univoco che è stabile e ha lo scopo di mantenere il controllo della versione che poi venga sottoposta a revisioni i tempi della submission sono di solito molto rapidi e fanno sì che generalmente un articolo sia disponibile nell'arco di 24 48 ore veniamo ora agli aspetti caratteristici dell'interfaccia di archivo già dall'home page si può scorrere per disciplina e le discipline principali possono avere sottoclassi e suddivisioni anche più piccole ognuna di queste suddivisioni è caratterizzata da un'abbreviazione univoca all'interno di ogni categoria principale o sottocategoria si può selezionare tre link new recent o search a seconda che si vogliano vedere gli articoli approvati per quel giorno o per la scorsa settimana o anche semplicemente cercare all'interno di quella categoria la maggior parte delle funzionalità sono quelle comune a tutte le banche dati quindi anche qui si possono usare gli operatori booleani e le parentesi eventualmente per rendere prioritario un operatore rispetto ad un altro in una query più complessa anche qui l'asterisco funziona per troncare un termine anche se lo stemming cioè la ricerca delle diverse determinazioni della parola in alcuni campi è una funzione automatica le virgolette si usano come di consueto per la ricerca di una frase esatta e il dollaro per delimitare invece un'espressione in linguaggio tech è vero che nella maschera di ricerca avanzata solo la fisica è ricercabile anche nelle sottocategorie ma questo gap è compensato almeno per la matematica e per l'informatica dalla possibilità di strutturare la propria ricerca attraverso due sistemi di classificazione disciplinari la cm computing classification system e il mathematics subject classification la cosa a nostro avviso più interessante però sono le molte funzionalità post ricerca cioè tutti quei servizi che aggiungono valore all'informazione primaria e che archive in collaborazione con altri enti sta mettendo via via a disposizione per arricchire l'esperienza di ricerca degli utenti una volta aperto un record per esempio abbiamo a disposizione la bibliografia e le citazioni ricevute dall'articolo in questo caso appoggiandosi al motore di ricerca semantic scholar abbiamo anche l'it maps che è uno strumento in grado di disegnare una mappa analizzando le citazioni legate a questo articolo abbiamo a disposizione code and data che è una risorsa attraverso la quale gli autori di una ricerca presentata in archive possono mettere a disposizione il software e data set che hanno usato per raggiungere gli obiettivi della ricerca stessa è una funzionalità che è molto apprezzata dai ricercatori nel campo dell'intelligenza artificiale abbiamo poi una selezione di papers correlati tramite connected papers che lavora sempre sulle citazioni ma con algoritmi diversi da read maps e realizza anche in questo caso un reticolo di documenti correlati infine abbiamo i documenti simili trovati su core che è un aggregatore di archivi open access accessibili sul web le possibilità di allargare la propria ricerca quindi sono davvero molte grazie a tutti grazie a tutti